Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video nel quale realizzeremo insieme questo copricostume all'uncinetto, qua sul video sarà un pochino difficile vederlo nella sua interezza, però va bene vi ho messo molte foto su Instagram e anche sulla pagina Facebook quindi potete andare tranquillamente su questi social e seguirmi, magari anche lì mi farebbe piacere e nello stesso tempo vi guardate per bene le foto ho fatto una cosa molto semplice perché almeno riusciamo bene un pochino tutti a realizzarla, non ci sono difficoltà particolari sappiamo già fare scalfi e scollature, abbiamo fatto queste cose in altri video, per cui qua saremo ulteriormente facilitati visto che è un lavoro lungo non ho messo in mezzo ulteriori difficoltà è formato quindi da questa gonna che è aperta qui ai lati, ai due lati sia a destra che a sinistra una gonna qui che è lunga, da questi quadretti fino alla fine, questa è lunga 52 cm fin qui si tratta di fare due rettangoli, uno per la parte anteriore e uno per la parte posteriore di maglie alte, rettangoli a maglie alte con alternati ecco questi motivi colorati per cui voi potrete utilizzare questi motivi qua sui vostri copri costume oppure andare a utilizzarne degli altri perché tanto qua non mettendo fin qui né aumenti né diminuzioni potrete semplicemente in base al numero di maglie che vi servono per fare quel determinato motivo andarci ad adattare a qualsiasi cosa volete fare una volta arrivati ecco a questo livello c'è un giro di diminuzioni per creare un attimo questa piccola arricciatura un motivo qua quadrettini per spezzare un po' la situazione di tutto questo marrone e poi va bene il corpetto è a cacca nottiera si tratta di un corpetto molto alto diciamo questo non è assolutamente il punto vita è spostato diciamo molto in alto perché mi piaceva così e dal margine qua della spallina fino ai quadrettini sono 28 cm qua è 44 cm mentre invece la gonna è larga è larga 53 cm materiali e uncinetto allora io ho preso come base un filato qua di colore marrone è il cotone delle rocche e l'ho messo quattro volte come quello del costume cioè ho usato lo stesso materiale che ho utilizzato per fare il bikini e poi ecco per fare questi motivi qua colorati ho usato il cablet numero 5 ho preso 8 colori quindi un celeste e un fucsia rosso geranio e verde acido è un verde marcio e giallo un glicine e un viola tutto si lavora con l'uncinetto numero 2,5 scegliamo il materiale che ci piace perché non dobbiamo andare a comprare necessariamente quello che ho utilizzato io prendiamo quello che ci piace con quello noi facciamo un piccolo campione e poi da lì riusciremo a calcolare il peso, le quantità e tutto che dovremo andare ad acquistare andiamo adesso ad imparare questo motivo che è molto semplice in quanto si tratta di fare in tutto 6 giri 5 sono quadrettini alternati mentre un giro è formato da questi ventaglietti separati da una catenella bisogna prendere per riprodurre questo motivo un multiplo di 4 più 9 maglie quindi per fare tutta questa gonna 157 maglie ho moltiplicato 4 per 37 volte e fa appunto 148 a 148 ho aggiunto 9 maglie viene 157 se volete fare delle larghezze differenti ecco potete prendere tranquillamente altri multipli sempre di 4 e alla fine aggiungete a questo numero che vi risulterà dovrete aggiungere appunto 9 maglie adesso per impararlo insieme noi faremo un piccolo campione prenderò un numero di maglie diciamo sempre in multiplo di 4 però molto più piccolino così non stiamo a fare tutta la striscia e andremo ad imparare insieme il motivo la caratteristica principale è soprattutto il cambio del colore in quanto in ogni giro ho cambiato ecco il colore in più eccolo ripetuto con 8 colori quindi ho preso 2 colori per ogni striscia qua ho utilizzato il celeste e il fucsia qui il verde acido con il rosso rosso geranio, qua il glicine e il viola e il giallo limone insieme a questo verde un po' verde marcio così la scelta di andare a utilizzare 8 colori è personale potete ad esempio anche farne 2 in un modo 2 in un altro insomma quello là poi è una cosa che si decide ognuno per conto proprio il primo è semplicemente un giro a maglie alte quindi va bene non c'è bisogno che le stiamo a fare insieme si tratta di prendere un certo numero di catenelle e farci sopra delle maglie alte ripeto multiplo di 4 più 9 alla fine del giro qua non chiudo l'ultima maglia alta perché devo cambiare il colore quindi prendo il filo fucsia e chiudo la maglia alta questo marrone è il primo giro di tutto il lavoro però adesso andiamo a contare i giri del motivo che vi avevo detto appunto sono 6 per cui andiamo a fare il primo giro del motivo quindi iniziamo facendo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta così faccio ancora una catenella e volto il lavoro salto una maglia di base che è questa e nella successiva faccio un'altra maglia alta quindi realizzo il primo quadrettino eccolo qui una maglia alta, una catenella, una maglia alta e li faccio questi quadrettini per tutto il giro quindi salto questa maglia nella successiva faccio la maglia alta ok, ancora una catenella salto la maglia di base nella successiva una maglia alta sempre così fino alla fine qua in fondo faccio l'ultimo quadrettino quindi una catenella e sulla terza catenella qua iniziale vado a fare la maglia alta che però non chiudo perché devo cambiare il colore e quindi vado a chiudere con il celeste qui faccio poi 3 catenelle volto il lavoro e mi preparo per fare questi quadrettini quindi adesso non faccio la catenella ma vado a mettere la maglia alta all'interno dello spazio perché appunto li devo alternare quindi inizio con 2 maglie alte una sopra la maglia precedente e una all'interno dello spazio e poi comincio a fare i quadrettini una catenella e questa maglia alta all'interno dello spazio ancora una catenella la maglia alta successiva all'interno di quest'altro spazio ancora una catenella e poi vado a fare questi quadrettini appunto alternati rispetto a quelli del giro precedente qui alla fine faccio una catenella vado all'interno di questo spazio con la maglia alta e poi termino come avevo iniziato ovvero non faccio la catenella e vado con la maglia alta sopra alla terza catenella qua iniziale quindi qui e la chiudo questa maglia alta perché devo cambiare sì il colore però devo fare il giro con i ventaglietti che lo devo fare sul dritto del lavoro quindi da questa parte qui perché siamo sul dritto per cui non posso attaccare il filo qua voltare il lavoro e andare a fare i ventaglietti altrimenti mi verrebbero sul rovescio quindi che cosa faccio? questo filo non lo taglio lo lascio qui mentre invece riprendo la lavorazione qua all'inizio con il fucsia che avevo già da questa parte quindi adesso metto l'uncinetto qui dentro dove avevo il segnale prendo il filo qui senza starlo a tirare troppo ecco in questa maniera e faccio tre catenelle quindi una, due, tre anche in questo caso non faccio la catenella ma vado con il ventaglietto dentro lo spazio di un quadrettino il ventaglietto è composto da tre maglie alte quindi una due e tre adesso invece devo saltare questo quadretto per cui metto una catenella e faccio il ventaglio all'interno del quadretto successivo quindi una due e tre maglie alte ancora la catenella salto un quadretto e nel successivo faccio il ventaglietto una due e tre ok arriviamo alla fine poi vediamo come proseguire arrivata qua in fondo con questo ventaglietto io adesso devo andare a fare l'ultima maglia alta sopra a questa maglia alta qui sottostante in particolar modo all'interno di questo cappio è una cosa molto semplice qui non metto la catenella e vado a fare una maglia alta qui dentro che però chiudo ecco con il celeste ok poi si continua a fare il motivo a ventaglietti scusate il motivo a quadrettini nel giro successivo quindi tre catenelle volto il lavoro e vado a mettere questa volta le maglie alte sulla prima e sulla terza sopra la prima e la terza maglia alta del ventaglietto e tra le due metto una catenella no? perché devo andare a fare il quadrettino quindi questa non la contiamo non metto la catenella e faccio subito la prima maglia alta qui ok poi una catenella e l'altra maglia alta sopra la terza maglia alta del ventaglietto in questo modo avrò realizzato il primo quadrettino perché qui appunto ci sono due maglie alte non distanziate dalla catenella così come avevamo fatto no? qui sotto quindi continuiamo il motivo a quadrettini tranquillamente facendo una catenella andando sopra la prima maglia alta del ventaglietto così poi ancora una catenella e sopra la terza maglia alta del ventaglietto ancora una catenella sopra la prima maglia alta del ventaglietto una catenella e un'altra maglia alta sopra la terza maglia alta del ventaglietto così fino alla fine ma in fondo alla fine è fatto l'ultimo quadrettino vado a chiudere con l'ultima maglia alta sopra a questa alla terza catenella qua nel giro precedente e la vado proprio ecco a chiudere perché adesso il quinto giro del motivo quindi 1 2 3 4 5 lo inizio di nuovo da qui perché il filo fucsia ce l'ho qui per cui vado a mettere l'uncinetto in questa catenella iniziale porto su il filo fucsia sempre non andando a tirare così e poi faccio 3 catenelle e inizio il quinto giro che è sempre a quadrettini per cui faccio una catenella e metto la maglia alta all'interno qui dello spazio di una catenella del giro precedente ancora una catenella e la maglia alta nello spazio quindi semplicemente in questa maniera fino alla fine adesso dobbiamo andare a fare l'ultimo quadrettino per cui facciamo ancora una catenella e la maglia alta la chiudo sopra a questa cappia qui come abbiamo fatto no precedentemente quindi vado qui dentro e faccio la maglia alta che chiuderò con il celeste perché l'ultimo giro che è il sesto lo facciamo sempre a quadrettini però con il celeste quindi 3 catenelle volto il lavoro metto subito una maglia alta all'interno del primo quadrettino del giro precedente e quindi faccio l'inizio poi ancora una catenella e sempre i quadrettini nella stessa maniera quindi la maglia alta all'interno dello spazio una catenella la maglia alta all'interno dell'altro spazio una catenella e così via fino alla fine fatto l'ultimo quadretto vado a chiudere con la maglia alta sulla terza catenella e ho terminato i sei giri no del motivo fili colorati questi celeste fucsia io non li ho mai tagliati per cui nel caso ci dovesse essere un errore o qualcosa si può tranquillamente andare a dispare senza sprecare nulla adesso l'unica accortezza è che nel giro questo qua marrone perché bisogna riprendere ecco la lavorazione a maglia alta tornino sempre 157 maglie alte perché devono essere così per un bel po' dei giri per cui non possiamo andare a perderle o aggiungerle altrimenti poi verrà un bel pasticcio quindi mi raccomando dopo ogni motivo devono ritornare sempre 157 maglie alte andiamo a farle e poi vi dico sulla gonna è proprio per bene i giri in cui dobbiamo mettere le maglie alte e quelli dove dobbiamo fare questi motivi qua colorati per ricominciare la lavorazione a maglie alte con il marrone adesso non andiamo a continuare da qui perché altrimenti questo giro no verrebbe al rovescio in quanto bisognerebbe voltare il lavoro e proseguire in questa maniera mentre invece viene più carino se noi mettiamo questo motivo colorato tra due giri questo e questo qui di maglia alta al dritto per cui noi andiamo a mettere l'uncinetto qua tanto il filo ormai quello marrone l'avevamo staccato lo possiamo attaccare ovunque e andiamo ad iniziare a maglie alte al dritto sul dritto del lavoro quindi 3 catenelle e poi mi raccomando facciamo queste 157 maglie alte non sbagliamo perché poi dopo ci portiamo l'errore per un bel pezzo ed essendo un lavoro ecco abbastanza lungo non possiamo permetterci di fare questi errori gratuiti quindi andiamo sopra la maglia alta del quadrettino così e poi all'interno dello spazio di una catenella ecco il risultato diciamo visivo è questo qui l'importante quindi è avere il giro di maglia alta marrone i due giri di maglia alta marrone questo e questo entrambi al dritto poi i quadrettini possono stare al dritto e rovescio che tanto fanno una rete quindi non è di fondamentale importanza mentre il giro con i ventaglietti anche questo deve essere lavorato sul dritto del lavoro non c'è nient'altro da dire possiamo passare sulla gonna quella là che ho già realizzato e contiamo insieme i giri eccoci sulla gonna allora in tutto da qui fino a qui sono 61 giri la larghezza è come dicevamo prima di 55 56 centimetri e la lunghezza quindi da qui fin qui sono 50 52 centimetri ok indicativamente allora vi dicevo c'è il primo giro qua a maglie alte marroni 157 maglie alte poi c'è il primo motivo quindi sei giri celeste e fucsia poi ci sono 11 giri con 157 maglie alte sempre di quel marrone poi ancora un motivo questa volta verde acido e rosso geranio 11 giri con il marrone sempre a maglie alte ancora un motivo ancora 11 giri l'ultimo motivo e poi finiamo con tre giri a maglie quindi sono 11 per 3 che fa 33 più 6 per 4 fa 24 24 più 33 57 più 360 più uno qua in fondo 61 quindi in tutto 61 giri ok di queste parti ne dobbiamo fare due identiche allora come vi dicevo prima il lavoro sarà lungo però prima di tutto non è noioso perché viene spezzato da questi colori no da dalla realizzazione ecco del motivo con questi colori molto vivaci per cui ogni 11 giri quasi deve fare qualcosa di differente per cui non annoia il problema il problema tra virgolette il problema è che non bisogna sbagliare ecco perché se noi ad esempio qua non ci ritroviamo 157 maglie e non ce ne accorgiamo poi portiamo su magari 11 giri e quindi succede un bel pastrocchio quindi mi raccomando dopo aver realizzato ogni motivo andiamo a contare queste 157 maglie alte benissimo realizziamo queste due parti e ci ritroviamo quando le abbiamo terminate entrambe una volta quindi realizzata tutta la gonna qua dobbiamo andare a fare in tutte e due le parti e le faremo uguali è questa volta anche se magari qualcuno può anche realizzare la parte dietro diciamo senza scollatura soltanto con gli scalfi delle maniche quindi questo lo potete andare a decidere voi se fare la scollatura sia anteriore e posteriore se farla solo anteriormente o se farle differenti quella anteriore magari più pronunciata quella posteriore meno queste sono tutte cose diciamo che si possono cambiare in corso d'opera e quindi deciderete voi come metterle io farò le due parti uguali sia per motivi di tempo qua e di praticità ma anche perché mi piaceva ecco essendo un copri costume farlo diciamo scollato nella stessa maniera anteriormente e posteriormente quindi dicevo le diminuzioni qua ho fatto una un piccolo motivo a quadretti per spezzare un pochino questa cosa tutta marrone una parte qui sempre uguale diciamo a maglia alta per poi iniziare gli scalfi delle maniche e finire facendo la scollatura mi trovo all'inizio del sessantaduesimo giro no quello dove dobbiamo andare a fare le diminuzioni e in particolare da 157 maglie io ne andrò ad ottenere 118 per cui 39 si di meno dovranno diminuire in tutto 39 maglie ottengo diciamo queste 118 maglie facendo due maglie alte una diminuzione per tutto il sessantaduesimo giro quindi andiamo a fare la prima maglia alta che è sostituita da tre catenelle poi la seconda maglia alta così e poi una diminuzione per fare la diminuzione sulla maglia alta noi facciamo due maglie maglie alte non chiuse e chiuse insieme quindi questa è la prima maglia alta non chiusa questa è la seconda ok e poi le chiudiamo insieme quindi per tutto il giro noi ripetiamo due maglie alte una diminuzione ancora una maglia alta la seconda maglia alta e poi la diminuzione quindi la prima non chiusa la seconda non chiusa e poi chiuse insieme qua alla fine ci sono le ultime cinque maglie no quindi noi dopo la diminuzione facciamo ancora una maglia alta poi un'altra maglia alta così e la diminuzione per cui la prima maglia alta non chiusa la seconda non chiusa e poi le chiudiamo insieme e questa qui è la maglia numero 117 rimane ancora una maglia per cui facciamoci sopra una maglia alta che è la numero 118 ok quindi sessantaduesimo giro 118 maglie alte facciamo quel giro con i quadretti quindi ancora qui voltiamo il lavoro con 3 catenelle facciamo 3 catenelle poi voltiamo il lavoro e questa volta i quadrettini li facciamo un po più ampi e quindi 2 catenelle saltiamo 2 maglie di base questa e questa nella successiva facciamo la maglia alta ok un pochino più grandi quindi due catenelle saltiamo due maglie di base 12 nella successiva facciamo la maglia alta finito il 63esimo giro con questi quadrettini adesso per dieci giri noi dobbiamo fare 118 maglie alte quindi qui andiamo ad ottenere di nuovo 118 maglie come erano in questo giro qua nel 62 e poi dal 64 fino al 73esimo quindi dieci giri in poche parole sempre 118 maglie alte quindi va bene adesso otteniamo di nuovo 118 maglie alte facciamo 3 catenelle voltiamo il lavoro e all'interno dello spazio qua andiamo a mettere due maglie alte poi ne mettiamo una sopra la maglia alta questa qui del quadrettino ancora due maglie alte nello spazio una sopra la maglia alta e così via sempre nella stessa maniera fino alla fine andiamo ad ottenere di nuovo 118 maglie alte e poi facciamo dieci giri quindi ci ritroveremo al giro numero 73 e dopo ricomincieremo a contare diciamo da uno perché facciamo gli scalfi e quindi non ci stiamo a portare dietro no tutti i numeri dei giri precedenti ecco qui i 10 giri no che dicevo appunto di fare per oggi terminiamo qui perché abbiamo fatto parecchie cose ci vediamo nel prossimo video dove faremo scalfi scollatura e poi va bene andremo a uscire a rifinire intanto mettete mi piace se volete se vi è piaciuto questo lavoro condividete questo video per fare in modo che molte persone lo possano vedere e iscrivetevi anche al canale ecco mi raccomando non dimenticatevi l'iscrizione